Tutto è nato dallo studio di un piatto in maiolica risalente alla prima metà del Seicento, raffigurante una scena di caccia al cinghiale, i cui protagonisti sono stati riconosciuti nel secondo marchese di La Terza e nei suoi nobili amici. L'illustre poeta era solito invitare i nobili dei paesi limitrofi alle sue battute di caccia al cinghiale, che, come era usanza di quel tempo, si concludevano a Palazzo Marchesale, con grandi banchetti conviviali accompagnati da intrattenimenti di musici e giocolieri, festeggiamenti che coinvolgevano il popolo del feudo di La Terza. Da qui l'idea di organizzare una spettacolare rievocazione storica della caccia al cinghiale con falconiere, che quest'anno è giunta alla quarta edizione. Questa manifestazione si è arricchita ulteriormente e quindi siamo attorniati dai figuranti anche che andranno poi a rappresentare attivamente il corteo. Si tratta di un corteo, di una rievocazione appunto storica, di tipo rinascimentale barocca. L'ideazione originaria della manifestazione comunque deriva dalla scoperta di un piatto in maiolica, raffigurante una scena di caccia appunto legata al Marchese e ai nobili che comunque accompagnavano il Marchese durante le battute di caccia. Ad aprire il nutrito programma delle manifestazioni, il corteo storico composto da 300 figuranti in costumi d'epoca e gli spettacoli in piazza con gli sbandieratori di oria, l'esibizione di falconeria con volatili rapaci, le esibizioni di odalische, incantatori di serpenti, mangiafuoco, fachiri e infine la dimostrazione di spari con fucili d'epoca. Gran finale di fuochi pirotecnici nella splendida cornice di Palazzo Marchesale. Ieri sera la serata conclusiva dedicata alla insurrezione popolare, nota come la Beffa del 1597, che ricostruisce la rivoluzione cittadina contro il commissario baronale. Durante le due serate l'Associazione Maiolica ha organizzato una serie di iniziative che hanno animato l'antico Borgo La Mesola di La Terza, esposizione di ceramiche laertine con la rappresentazione di momenti di vita vissuta nelle antiche fornaci laertine e nella corte del Palazzo Marchesale una pasticceria con degustazione di dolci barocchi oltre ad un mercatino di artigianato locale.